È stata inaugurata anche a Castel del Piano, nel piazzale dove si tiene il mercato settimanale, Fonte Urbana, l'impianto di erogazione di acqua naturale e refrigerata a cura di Umbra Acque e Comune di Perugia. L'iniziativa si inserisce in una pianificazione più ampia che ha come linea comune la sostenibilità. Il riferimento è al prossimo approdo in città del Metrobus, sistema che consentirà di ridurre in maniera significativa l'uso del mezzo privato e quindi l'inquinamento, mettendo in comodo collegamento tutte le aree che si estendono da Castel del Piano alla stazione e da lì al centro storico, grazie al minimetro. La nuova casa dell'acqua è la settantesima presente sul territorio gestito da Umbra Acque. Dieci sono gli impianti già presenti nel territorio di Perugia, a Parlesca, Colombella, Villa Pitignano, Pian di Massiano, Via Checchi in zona cupa, ai piedi del centro storico, Ponte San Giovanni, San Martino in Campo Pianello Fontignano e ora anche a Castel del Piano. Attraverso l'app Weidi è possibile geolocalizzare la casa dell'acqua più vicina ed avere informazioni sul percorso per raggiungerla oltre che sull'acqua erogata. Ogni fontanella eroga acqua naturale gassata, refrigerata al costo di 5 centesimi per ogni litro e mezzo e rimane in funzione tutti i giorni dalle 7 alle 23. Nelle ore notturne il distributore procede alla sanificazione automatizzata dell'impianto. Una volta al mese Umbra Acque preleva l'acqua dalle case ed effettua le analisi per verificare che tutti i parametri siano conformi alla legge e che dunque l'acqua sia sicura e buona da bere. Queste delle cassette dell'acqua è un tema importantissimo perché ha una duplice valenza, una di carattere ambientale e un'altra di carattere economico. Quindi come comuni di Perugia stiamo spingendo molto. Questa è la decima cassetta dell'acqua che andiamo ad inaugurare. Altre due sono oramai in dirittura di arrivo, quella cioè di San Sisto e quella di Mugnano. Vi è poi l'altra di Colle Umberto in progettazione. Su finanziamento Auri altre 5 sono in programma a testimonianza di un'attenzione e di un impegno su questo tema che stiamo portando avanti.